e soprattutto ricordate che quando piove e tira vento alle palle stai attento ma possibile vieni sempre a rompi i coglioni vieni a toccare i coglioni e cosa tocca ma mi fa male ma che cosa tocca ma voglio affanculo no è sempre nervoso però la frase calza sempre che stanno che figa buoni se me lo dicevi prima li mangiavo anch'io ma niente invece io oggi se ragazzi ritorno al regime e vai a donna maria è dispiaciuta quando mangia stelo voglio sentire anche da voi voglio tutti i dm pieni guardate cosa sta succedendo cosa starà facendo cosa starà facendo cosa starà facendo attenzione attenzione scrivetemelo eccolo arzughe